Musica Accordi trasversali, nuovi amici e soliti nemici, l'ambiquità politica del governatore di Puglia, Michele Emiliano, rischia di avere conseguenze sui territori in vista delle amministrative. La Guardia di Finanza di Bari ha sequestrato beni per un valore di circa 1 milione e 600 mila euro nei confronti di un imprenditore operante nel settore della raccolta del gioco e delle scommesse. L'indagato avrebbe percepito corrispettivi per circa 2 milioni e mezzo di euro, non dichiarate al fisco. Fa tappa in Puglia la settima edizione di Nonno Ascoltami, la campagna nazionale per i controlli gratuiti dell'udito. La tappa barese è in programma per domenica 9 ottobre, ma saranno in tutto 6 le piazze pugliesi coinvolte per una prevenzione che serve a contrastare l'esclusione sociale. Buonasera e ben ritrovati con il consueto appuntamento in diretta dell'informazione di Antenna Sud in apertura del nostro telegiornale interregionale di Puglia e Basilicata. Lo avete sentito dai titoli. La politica, accordi trasversali, nuovi amici e soliti nemici. L'ambiguità politica del governatore della Puglia, Michele Emiliano, rischia di avere conseguenze sui territori in vista delle amministrative. Il servizio di apertura a cura di Michele Iurlato. Il rischio di risultare ambigui quando in un modo o in un altro ci si ritrova a gravitare attorno all'universo legato al governatore di Puglia, Michele Emiliano, è sempre alto. E allora, nonostante le parole poco lusinghiere indirizzate al governo regionale, già in campagna elettorale, Carlo Calenda, leader di azione, è stato costretto a tornare sull'argomento, minacciando addirittura l'espulsione dal partito per gli amici di Michele. Qualsiasi tentativo di dialogo, di avvicinamento in regione Puglia a Michele Emiliano, che consideriamo il peggior governatore nella storia recente del paese, comporterà l'espulsione d'azione, firmato Carlo, che, più chiaro di così, non poteva essere. Il riferimento sembra essere rivolto a Massimo Cassano, candidato alle politiche nel Terzo Polo e direttore generale di Arpal, salvato dalla variegata maggioranza, costruita tassello dopo tassello, proprio dall'ex sindaco. D'altro canto, in attesa che lo stesso Cassano, leader di Puglia Popolare, chiarisca la sua posizione politica, appare paradossale che quelle stesse strategie regionali possano, nel prossimo futuro, andare a discapito di un sindaco uscente, sostenuto anche e soprattutto dal PD. A brindisi Riccardo Rossi avrà il suo bel da fare a superare la concorrenza di quei 5 stelle tanto cari al governatore, che per le amministrative 2023, dall'alleanza quasi scontata, e anzi, in una coalizione a trazione dem pentastellati, i nomi forti, ancora più di rossi, sono quelli dei candidati grillini Salvatore Giuliano e Roberto Fusco. E allora, viva l'ambiguità, quella politica, quella su cui, con fortuna alterne, il governatore ha costruito le basi del governo regionale. Solide o meno si vedrà, di certo, travolti dagli eventi e dall'universo, ci saranno decaduti. Ambiguità, già la stessa, infine, di una legge elettorale. Il Rosatellum, che dopo i ribaltoni già vissuti nelle scorse ore, potrebbe portare a nuove sorprese. La Corte d'Appello di Bari è ancora a lavoro sul riconteggio delle schede elettorali pugliesi e i risultati, quelli definitivi, saranno comunicati nelle prossime ore. Chissà che non si registri un nuovo ribaltone nell'assegnazione dei seggi, ma in questo, beh, dobbiamo dirlo, Emiliano, non avrebbe alcuna colpa. Adesso la cronaca giudiziaria. Andiamo a Lecce per un'inchiesta che vede indagato il giudice a capo della sezione fallimentare del Tribunale ed altri due soggetti. Tornano le fiamme gialle a Palazzo De Pietro per effettuare dei controlli in merito a un nuovo fascicolo senza alcun riferimento ad una precedente inchiesta che avrebbe coinvolto nei mesi scorsi un altro magistrato, la procura di potenza delegato alla Guardia di Finanza di Gallipoli ad eseguire perquisizioni e sequestri sistemi operativi elettronici in casa di tre indagati, un magistrato Alessandro Silvestrini, un geometra e un imprenditore di surbo. La contestazione, che ovviamente è provvisoria, è formulata in una fase iniziale dell'inchiesta, quindi ancora tutta da accertare e dimostrare, sarebbe di corruzione impropria in atti giudiziari. La finanza, su delega del PM Francesco Curcio, titolare del fascicolo, ha acquisito materiale di cui ha fatto copia senza effettuare alcun sequestro. Le perquisizioni, sia negli uffici che nelle abitazioni degli indagati, sono durati pochi minuti, il tempo necessario a verificare quanto indicato dalla procura di potenza. Contestualmente, la finanza ha prelevato in tribunale atti che riguardano un'altra indagine sotto forma di acquisizione aggiuntiva ed un fascicolo precedentemente avviato. Ci spostiamo in Capitanata, Università e Territorio. L'Ateneo Dauno è al lavoro per il piano strategico 2022-2025. Oggi un tavolo programmatico dedicato al tema della cultura e della legalità. Presenti tutte le massime autorità della provincia che hanno annunciato un piano per risolvere il problema del grado socioculturale della provincia. È un momento riflessivo, ogni tre anni ci fermiamo e cerchiamo di capire cosa abbiamo fatto nel triennio precedente e come costruire un triennio migliore, più efficace. L'Università di Foggia è al lavoro per il piano strategico 2022-2025, il documento che ogni università stila con cadenza triennale con l'obiettivo di delineare la missione e gli indirizzi strategici di Ateneo. Anche quest'anno l'Università di Foggia, in linea con la costante attività di terza missione, ha scelto di redigere il piano strategico con i principali attori del territorio In occasione del tavolo programmatico odierno, dedicato al tema cultura e legalità, presenti tutte le principali autorità e gli attori istituzionali della provincia. Abbiamo riflettuto su diversi temi, dall'internazionalizzazione alla didattica ai nuovi laboratori di ricerca. Oggi ragioniamo sulla cultura della legalità. Lo facciamo con tutti gli attori istituzionali, con molti attori del sociale, per programmare interventi per i prossimi tre anni fino al 2025 che diano una mano allo sviluppo sano di questo territorio. Procuratore, oggi una giornata dedicata alla legalità come tante ultimamente. Cosa proporrete per fare qualcosa in più rispetto a quanto è stato già fatto? Sì, una giornata dedicata alla cultura e legalità, al ruolo della cultura come contrasto all'illegalità e alla criminalità. Che cosa proponiamo? Ancora una volta vogliamo testimoniare l'impegno. E c'è un nuovo corso dell'impegno. La squadra Stato si è in qualche modo arricchita e allargata. Vogliamo lavorare insieme, anche con le amministrazioni comunali, per contrastare non solo l'illegalità, ma anche il degrado urbano e aumentare la sicurezza dei cittadini, insomma migliorare la qualità della vita dei cittadini di questo territorio. Volendo fare qualche esempio? Le occupazioni abusive di suolo pubblico, che sono selvagge. I rifiuti, lo scarico dei rifiuti soprattutto nelle strade di periferia, ancora il degrado in genere urbano, la necessità di aumentare le videosorveglianze, l'illuminazione, insomma tutto ciò che può servire a migliorare i servizi ai cittadini, la qualità della vita e soprattutto la loro sicurezza e la sicurezza percepita, cioè la percezione di vivere in una città più sicura e più tranquilla. E adesso la crisi energetica. Da Casarano la richiesta dei commercianti di pensare a forme di aiuto concrete e non a bonus ritenuti inutili palliativi. Alcune attività hanno già abbassato la saracinesca, altre le faranno dopo il 31 ottobre. A Casarano il caro energia inizia a mietere alcune vittime. Scende in campo l'associazione commercianti imprenditori e artigiani, che chiede interventi seri prima che sia troppo tardi. Non siamo tutelati da nessuno e la situazione ormai ci porta tutti verso una chiusura. E la domanda nostra è perché bisogna arrivare a una chiusura per colpa del nostro Stato, del Governo e di questi rincari. Dobbiamo finirla con questi bonus, con questi piccoli aiuti. Le imprese e i commercianti non hanno bisogno di bonus, hanno bisogno di avere una stabilità economica. La stabilità economica bisogna ritornare ad avere dei prezzi giusti di luce e gas, come erano prima. Non puoi aiutare con dei piccoli bonus perché comunque non darei una mano a nessuno. E' bello che ancora la grave crisi deve arrivare, la subiremo sicuramente nel novembre e dicembre, nei periodi poi che dovremo iniziare a lavorare per il Natale. Purtroppo nei prossimi mesi sarà ancora peggio perché si prospettano tantissime chiusure in generale in tutte le attività. E onestamente il 31 ottobre è una data che molti stanno cercando di si avvicini perché ci sono delle chiusure imminenti. Preferiscono tutti chiudere. Ricordiamoci che usciamo da due anni di pandemia, quindi siamo già in sofferenza. Quindi non c'è una soluzione. L'unica soluzione al momento è chiudere l'attività e aspettare che abbassa questo caro vita. Però certo non è una soluzione nemmeno giusta nei confronti di attività storiche, attività importanti. Lo Stato deve capire che ogni città va avanti grazie al commercio. Ci spostiamo nella BAT. Michele Cianci è stato rimosso dalla carica di amministratore unico di Barsa S.P.A. La Società di Servizi Ambientali di Barletta si è espressa all'unanimità alla presenza del Comune di Barletta in qualità di socio. Non intendo oggi più che mai rassegnare le mie dimissioni in quanto le contestazioni che mi vengono mosse dalla Procura di Brescia e per le quali mi dichiaro assolutamente straneo non riguardano fatti inerenti al mio operato in qualità di amministratore Barsa. Della revoca ne prendo atto. Michele Cianci non è più l'amministratore unico di Barsa S.P.A. La revoca dell'incarico è arrivata al termine dell'Assemblea odierna presso la Società di Servizi Ambientali di Barletta. Il sindaco Cosimo Cannito ha comunicato la decisione del socio comune di Barletta con lo stesso Cianci che invece aveva scelto di non rassegnare le dimissioni. L'avvocato agli arresti domiciliari da diverse settimane ha partecipato all'incontro in videoconferenza. È stata un'assemblea particolarmente dolorosa. A me dispiace molto della vicenda umana di Michele Cianci che io ritengo assolutamente innocente. Cianci ha lavorato benissimo nella Barsa però io devo pensare anche alla gestione della partecipata. La misura restrittiva a cui è sottoposto Cianci deriva da un'inchiesta della Procura di Brescia sulla vendita di armi e sostanze illecite sul dark web. Il legale difensore di tre degli individui arrestati sarebbe andato oltre il suo mandato pur non essendo una misura che intacca l'operato amministrativo in Barsa. La revoca è stata decisa all'unanimità. Michele non avrebbe potuto seguire avendo questo dovere di rispettare la custodia cautelare a casa propria. Lunedì prevista una nuova assemblea per nominare il successore di Cianci. L'opzione principale è quella di un passaggio dall'amministratore unico ad un CDA. Valutazioni ancora in corso. Ci sarà l'assemblea nella quale nomineremo, proporrò, perché ho avuto questo mandato dalla politica, di non fare più un amministratore unico ma di fare un consiglio in un CDA. I dipendenti e i precari della Sanità Service sono stati impegnati in un presidio di protesta davanti alla direzione generale dell'ASL di Brindisi. Presidio permanente dei lavoratori Sanità Service davanti alla direzione generale dell'ASL di Brindisi in Via Napoli. Dalle 8 del mattino alle 8 di sera i sindacati hanno proclamato un'assemblea generale che affianca i dipendenti che lamentano gravissime criticità insieme ai precari protagonisti delle proteste di questi giorni. I lavoratori tutti di Sanità Service protestano per la carenza organica, per le risorse umane che mancano, per le sostituzioni non effettuate, per 60 lavoratori licenziati dopo aver vissuto la pandemia, dopo aver lavorato con abnegazione, chiediamo una ricognizione di tutto il personale assente e soprattutto la valorizzazione di tutte le figure professionali che hanno dato l'anima in pandemia, che non si sono mai fermate e che meritano stabilità occupazionale. Siamo assistendo, come diciamo in questi giorni, ad un rimpallo di responsabilità fra l'organo politico e quello tecnico. Di fatto oggi questi lavoratori sono messi in una condizione di assoluto disagio, sono persone che si sono adoperate nel periodo difficile del nostro paese, oggi vengono scaricati come si scaricano le valigie. Ci sono solo parole ad oggi, non abbiamo fatti, stiamo aspettando se ci convoca il direttore generale per almeno ci illustrasse qual è lo stato dei fatti, perché c'è il silenzio tombale e noi come organizzazioni sindacali non faremo assolutamente il gioco della politica, il silenzio. I rappresentanti sindacali in mattinata hanno incontrato il direttore generale dell'ASL, Flavio Roseto. E andiamo a Grottaglie per un convegno sulle prospettive dell'aeroporto Arlotta. Intanto arriva una notizia tanto attesa che rende più concreta l'ipotesi dell'apertura dell'aeroporto. Ai voli passeggeri. Un futuro che guarda allo spazio, visto dal cielo di Grottaglie, è di un aeroporto che vuole crescere insieme al territorio. Di aerospazio e di prospettive evidentemente privilegiate da sogni e innovazione, si è discusso in un incontro pubblico nel castello episcopio di Grottaglie. Ci stiamo concentrando principalmente su quello che è lo sviluppo dell'aeracargo e dell'aerospazio e dello spazio-porto come elementi cardine centrali. Questo è il punto di partenza, ma non è il punto di arrivo. Ed è durante l'incontro pubblico che arriva una notizia tanto attesa. La Costituendo RTI è la ditta giudicataria della gara d'appalto per i lavori di rifacimento del terminal passeggeri. Oggi abbiamo avuto anche un vincitore della gara per l'aerostazione di Grottaglie, che sono due progetti separati e distinti, ma che comunque cubano circa 11 milioni di euro di investimenti immediati. Tra politica e denti, tra amministratori e tecnici, tutti certi. Il futuro è sopra le nostre teste, il futuro è l'aeroporto Arlotta. Noi siamo gli attori principali insieme all'ENAC e alla comunità territoriale affinché questo sogno, tra virgolette, poi diventi veramente un coso di concreto e utile per tutta la comunità. Insomma, tutti con il naso in su. Ora è ufficiale, l'aerospazio non esclude anche i voli civili. Tutti a disegnare il futuro per uno spazio che a queste latitudini non è mai stato così vicino. E continuiamo a parlare di infrastrutture. Ci spostiamo nuovamente nella BAT, dal porto commerciale al porto turistico. Barletta studia le modalità di trasformazione degli attracchi marittimi di Levante con l'obiettivo di realizzare un'opera ambiziosa e funzionale per rilanciare il turismo cittadino. Un approdo turistico per rilanciare l'attività delle coste di Barletta è la proposta fatta dagli imprenditori del territorio legati ad Assimpro che hanno incontrato i progettisti dello studio VIP per gettare le basi di un progetto ambizioso capace di rendere la città un attacco strategico per il turismo marittimo. Il discorso oggi del porto è una diversificazione. È chiaro che resta inteso che oggi lo sviluppo con i progetti che sono già finanziati riguardano il porto commerciale, l'allungamento dei moli. Quindi noi rendiamo oggi più funzionale da un punto di vista commerciale il porto di Barletta. Adesso diversifichiamo. E quindi quello che è un progetto in fase embrionale che però sta muovendo i suoi passi è quello di rendere anche una parte del porto cioè tutta la radice del molo di Levante di renderlo un porto appunto turistico perché oggi c'è un grande interesse. Il progetto riprende una precedente ipotesi di porto turistico non concretizzata oltre un decennio fa. I costi di realizzazione dipenderanno dalla forza imprenditoriale del territorio a cui andranno affiancate le procedure amministrative del caso. Barletta ci prova, l'imprenditoria resta alla finestra. Stiamo muovendo i primi passi con gli imprenditori di Barletta grazie appunto anche alla disponibilità della Asimpro che si sta muovendo in modo tale da presentare quanto prima un progetto e quindi cominciare a pensare a quello che può essere lo sviluppo turistico della nostra città. Andiamo a Taranto per il primo appuntamento con la nostra inchiesta sul Circummar Piccolo, amata e dimenticata. Oggi parliamo dei problemi della sede stradale e di lavori non completati. Ce ne siamo occupati più volte e torneremo ad occuparcene anche nei prossimi giorni. Parliamo della Circummar Piccolo, tanto amata quanto dimenticata dai Tarantini e dalle amministrazioni pubbliche. Vanto naturalistico del territorio e terra di nessuno purtroppo con situazioni che si trascinano stancamente da troppi anni. Le segnalazioni dei nostri telespettatori sono continue. Oggi nel particolare ci occupiamo dei problemi della sede stradale nella prima puntata della nostra inchiesta. Da un lato la meraviglia del mare di un panorama mozzafiato, dall'altro un cantiere fermo da troppo tempo, la risistemazione di asfalto e cordoli mai terminata, la retina arancione a testimoniare lavori di risistemazione, ormai dimenticati dal tempo. A poche centinaia di metri un'altra situazione da risolvere, per evitare i problemi futuri e situazioni incresciose, un evidente dislivello nel banto stradale che fa sobalzare le auto che con troppa velocità percorrono quel tratto, evidenziato anche da alcune crepe che si vedono nitidamente nell'asfalto. Un problema che andrebbe risolto in fretta per evitare possibili pericoli per gli automobilisti. È il momento di intervenire. Ma l'occhio delle nostre telecamere non si ferma qui. Nella prossima puntata parleremo dei rifiuti che deturpano la bellezza della Circo Mar Piccolo, come uno schiaffo in pieno volto. Ci spostiamo in Basilicata. A Potenza il generale dei Carabinieri Luca D'Amore ha simbolicamente consegnato alla dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Potenza Deborah Infante una graphic novel commemorativa in occasione del quarantesimo anniversario dall'uccisione del generale Carlo Alberto Dallachiesa. Un fumetto per raccontare alle nuove generazioni ed attraverso il loro linguaggio la storia e la vita del generale Dallachiesa, ucciso a Palermo il 3 settembre del 1982 nella strage di Via Carini. Una figura emblematica del XX secolo che ha dedicato la propria vita alla lotta, alla mafia e al terrorismo. Le stelle di Dora, e questo è il titolo della graphic novel, sarà distribuita a tutti gli istituti scolastici di secondo grado della provincia di Potenza e sarà a disposizione dei dirigenti e degli studenti che vorranno approfondire e conoscere la storia di un eroe contemporaneo come fu il generale Dallachiesa. È una forma tipica per raccontare la vita del generale Carlo Alberto Dallachiesa. È stata scelta una graphic novel, quindi un fumetto, perché solitamente il fumetto è la casa dove ci sono gli eroi e dove si raccontano le loro vicende. È quella proprio del generale Carlo Alberto Dallachiesa, quindi il racconto proprio di un eroe e delle sue gesta. Sicuramente l'arma dei carabinieri ha scelto bene, insomma, lo strumento da presentare alle scuole per poter avvicinare i ragazzi e le ragazze ad un eroe, come diceva il colonnello, quindi ad un personaggio così importante nella recente storia italiana. Il messaggio che dobbiamo ricordare è proprio quello del generale che fece proprio a Palermo quando disse che bisogna riuscire a fare le cose legate ovviamente al mondo della legalità, non per coraggio, ma per riuscire poi a guardare in faccia i propri figli e i figli dei propri figli. Torniamo alla cronaca. Illeciti nel settore gioco e scommesse sequestrati i beni per 1,6 milioni di euro ad un imprenditore barese. Sequestrati i beni per un valore di circa 1,6 milioni di euro nei confronti di un imprenditore barese operante nel settore della raccolta del gioco e delle scommesse e il risultato delle attività delle fiamme gialle del capologo pugliese che ha permesso di rilevare la presentazione di dichiarazioni infedeli ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2016 nonché l'omessa presentazione delle medesime per il 2017. Il sequestro preventivo è a carico della ditta Fiore Fabio e in caso di beni insufficienti ai danni della disponibilità dell'indagato Fabio Fiore titolare dell'omonima azienda individuale. Fiore è accusato di avere evaso le imposte nel 2016 per 1,3 milioni di euro e nel 2017 per circa 300 mila euro. La sua azienda risulta formalmente cessata il 31 dicembre 2016 ma secondo le indagini avrebbe operato fino al 2018. Fiore in sostanza è accusato dalla procura di Bari di aver fatto parte di una rete parallela di promotori di gioco illegale di una società maltese che nonostante fosse formalmente autorizzata ad operare in Italia nel settore della raccolta del gioco e delle scommesse aveva un canale parallelo illecito per raccogliere il denaro che assicurava ingenti guadagni. E adesso andiamo a Lecce per un blitz dei finanzieri nei luoghi della Movida sequestrati 500 grammi di droga. Tornano le fiamme gialle a Palazzo De Pietro per effettuare dei controlli in merito a un nuovo fascicolo senza alcun riferimento ad una precedente inchiesta che avrebbe coinvolto nei mesi scorsi un altro magistrato la procura di potenza delegato alla Guardia di Finanza di Gallipoli ad eseguire per acquisizioni e sequestri sistemi operativi elettronici in casa di tre indagati un magistrato Alessandro Silvestrini un geometra e un imprenditore di surbo la contestazione che ovviamente è provvisoria e formulata in una fase iniziale dell'inchiesta quindi ancora tutta da accertare e dimostrare sarebbe di corruzione impropria in atti giudiziari la finanza su delega del PM Francesco Curcio titolare del fascicolo acquisito materiale di cui ha fatto copia senza effettuare alcun sequestro le perquisizioni sia negli uffici che nelle abitazioni degli indagati sono durati pochi minuti il tempo necessario a verificare quanto indicato dalla procura di potenza contestualmente la finanza ha prelevato in tribunale atti che riguardano un'altra indagine sotto forma di acquisizione aggiuntiva ed un fascicolo precedentemente avviato torniamo in Capitanata è stato assicurato alla giustizia l'autore del tentato duplice omicidio avvenuto la sera del 4 ottobre nella frazione Macchia Monte Sant'Angelo due i soggetti coinvolti loro malgrado un trentenne ferito ad una spalla ed un altro soggetto rimasto illeso il tutto sarebbe scaturito da un futile contenzioso tra vicini subito dopo degenerato in un agguato armato che poteva avere conseguenze ben più gravi dopo il fatto il presunto colpevole si è dileguato rendendosi così reperibile sino alla tarda serata di ieri quando dopo un blitz interforce coordinato dalla procura di Foggia è stato catturato dopo un iniziale rocambolesco tentativo di fuga nei prossimi giorni tale misura sarà sottoposta convalida davanti al GIP del Tribunale di Foggia nel frattempo l'uomo si trova attualmente ristretto presso la casa circondariale di Foggia in attesa di giudizio e cambiamo decisamente argomento innovazione tecnologica in Fiera di Levante a Bari testato un nuovo minibus l'innovazione tecnologica fa tappa anche a Bari negli spazi della Fiera di Levante il sindaco Antonio De Caro ed il vice sindaco Eugenio Di Sciascio hanno effettuato un giro su un minibus a guida autonoma si tratta di un mezzo con capienza massima di 15 persone senza volante e con alimentazione elettrica che raggiunge una velocità massima di 25 km orari l'iniziativa rientra nella serie di test che dalla seconda metà di settembre sono in corso nell'ambito del progetto Casa delle Tecnologie Emergenti finanziato dal Mise e realizzato in collaborazione con l'ente Fiera Navia Sa e Mobility Garage oltre ad altri partner della CTE un laboratorio vivo con tante sperimentazioni la sperimentazione del MAS su una piattaforma che tiene insieme gli orari e i percorsi di tutti i sistemi di trasporto cittadini la sperimentazione sugli stali dei parcheggi in città la sperimentazione con i droni che faremo vedere tra un mese per il trasporto delle merci il trasporto dei defibrillatori e questa sperimentazione di autobus senza guida una guida automatica che stiamo facendo all'interno della fiera siamo la sede di sperimentazione da parte di tanti multinazionali che sono presenti nella nostra città Nella sede di magazzini sociali a Potenza è stato presentato il progetto di prevenzione contrasto al mattrattamento dei minori Sotto Sopra insieme per ricucire i sogni Sotto Sopra è un progetto selezionato da Coni Bambini nell'ambito del fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile ed elaborato da un partenariato pubblico privato per prevenire e contrastare l'abuso la violenza e il maltrattamento dei minori in Basilicata oltre che per prendersi cura dei bambini e degli adolescenti maltrattati e delle loro famiglie Le attività e l'avvio del progetto sono state presentate a Potenza durante un incontro svoltosi nella sede di magazzini sociali al quale ha preso parte anche l'assessore ai servizi sociali del comune di Potenza Fernando Picerno Il mio obiettivo generale è quello di promuovere il benessere di tutti i minori soprattutto facendo emergere tutto ciò che è celato nascosto e sommerso rispetto ad abuso e maltrattamento numeri precisi non ne abbiamo proprio perché è un fenomeno sommerso ci sono ricerche nazionali da cui si evince per esempio la ricerca del CESVI nazionale che porta la Basilicata in una delle regioni a rischio Allora l'abuso implica rispetto ai minori tutte le varie forme quindi dal maltrattamento fisico psicologico violenza assistita maltrattamento che poi per esempio include l'incuria la discuria l'ipercura molte volte per esempio l'ipercura è una cosa non considerata però di fatto noi vediamo bambini super alimentati quella diventa una delle forme di ipercura contrastare il bullismo e il cyberbullismo nuovo protocollo tra regione Puglia e ufficio scolastico regionale prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo verte su questo il nuovo protocollo d'intesa siglato tra il dipartimento al welfare della regione Puglia e dall'ufficio scolastico regionale della Puglia il tutto arriva dopo che l'ente di via gentile ha promosso una campagna contro il fenomeno avendo come prima firmataria già nel 2018 della legge regionale per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo la consigliera Penta Stellata grazie a Di Bari il protocollo approvato in giunta il 9 agosto scorso porterà nei prossimi giorni alla pubblicazione di un avviso regionale per le scuole di ogni ordine e grado nel bilancio regionale di previsione intanto è stato approvato l'emendamento con cui sono stati stanziati 200.000 euro per le azioni previste dalla legge in modo da dare piena attuazione e concretezza alla norma il protocollo che va ad attuare una legge regionale del 2018 fortemente voluta anche dalla nostra Grazia Di Bari come prima firmataria dove la Puglia fu la prima regione in Italia a dar vita a una legge in contrasto al bullismo e al cyberbullismo e in questi progetti sono previsti in pratica corsi di formazione sportelli di informazione ma anche di in qualche modo di strutturati per poter dar vita a un percorso per il ragazzo quindi di ascolto tanti ragazzi ragazzini che subiscono che magari non hanno la forza di denunciare di ribellarsi in qualche modo nel loro silenzio devono vivere queste vicende queste situazioni umane di isolamento di vestazione continua che chiaramente non dobbiamo in qualche modo arginare questa legge prova ad arginare noi proviamo ad attuare appunto con questi entrando nelle scuole con questo protocollo di intesa che è molto utile ci fermiamo qualche istante torniamo tra poco e riprendiamo con l'informazione di Antenna Sud sensibilizzare i ragazzi per avere comportamenti corretti in auto e guidare responsabilmente l'educazione stradale è fondamentale anche e soprattutto per la propria incolumità necessario e quindi avere comportamenti corretti una volta la guida del veicolo auto o motore che sia evitare di bere guidare responsabilmente per evitare di andare incontro a spiacevoli conseguenze che possono andare dai provvedimenti disciplinari e di confisca del veicolo fino al rischio incidenti all'istituto Calamandrei di Bari la polizia di Stato ha voluto sensibilizzare i giovani su questi temi Oggi insieme alla polizia stradale alcune nostre classi in particolare le classi seconde parteciperanno ad un'attività di educazione stradale per sensibilizzare gli alunni già da questa età ad usare un comportamento adeguato quando utilizzano i mezzi La polizia di Stato e la polizia stradale nell'ambito dell'amministrazione del Ministero dell'Interno persegue anche e soprattutto finalità volte alla sensibilizzazione dell'utenza sulla strada con particolare riguardo al rispetto della normativa consacrata nel codice della strada e ovviamente evitando inducendo i ragazzi ad evitare di bere la sera e ovviamente di assumere sostanze psicotrope e stupefacenti Un inizio di anno scolastico all'insegna della bandiera italiana e dell'ino di Mameli appuntamento a Bari in altre sette piazze pugliesi con l'esercito e la scuola nei centri storici l'iniziativa che ha coinvolto i ragazzi degli istituti del Capolò Un inizio di anno scolastico diverso questo 2022 con la solene cerimonia dell'alza bandiera accompagnata dalle note dell'inno di Mameli e dai militari della brigata meccanizzata Pinerolo un appuntamento coordinato con l'ufficio scolastico regionale per la Puglia che è coinvolto in simultanea le piazze di otto città della regione alcune delle quali ospitano i reggimenti che costituiscono la grande unità dell'esercito italiano proprio come quella del capoluogo pugliese il tema conduttore della cerimonia a Bari è stato l'esercito e la scuola nei centri storici intendendo così sottolineare la comunanza tra le due istituzioni di valori quali la cooperazione le regole condivise e la conoscenza un incontro importante il suono della campanella insieme all'alza bandiera simbolicamente è un incontro tra scuole e altre istituzioni sulla bandiera la nostra costituzione e il senso civico per noi è un percorso anche scolastico perché ormai l'educazione civica è stata introdotta proprio nel corso di studi e quindi da queste occasioni si può iniziare per un profilo proprio curriculare scolastico di approfondimento dei temi i miei propositi per quest'anno scolastico sono impegnarmi nello studio imparare il dato come possibile avere ottenuti in pagella e fare amici con i miei compagni di classe per me studiare è importante e voglio che fosse lo stesso per tutti per noi perché lo studio e la conoscenza ci permettono di avere un futuro migliore e soprattutto essere persone migliori auguro a tutti noi un anno scolastico di buoni propositi e disperazioni grazie una formale diffida nei confronti del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci è stata inoltrata agli organi competenti dall'intero consiglio comunale di opposizione al sindaco Melucci si contesta l'assunzione per chiamata diretta di sette staffisti nella mattinata odierna i rappresentanti del consiglio di opposizione hanno spiegato dettagliatamente durante una conferenza stampa la loro posizione a Palazzo di Città le forze di opposizione sono presenti ed il ruolo che svolgono è importante quanto quello della maggioranza questo è l'aspetto che viene evidenziato in aula consigliare dai rappresentanti del consiglio di minoranza del comune di Taranto che nella mattinata hanno spiegato alla stampa le ragioni della diffida formalizzata nei confronti del sindaco Rinaldo Melucci per l'assunzione diretta di sette staffisti l'amministrazione ha fatto un'assunzione di ben sette staffisti a tempo determinato e a chiamata diretta che va a contrastare appunto con gran parte delle leggi e della giurisprudenza anche perché è stata fatta una variazione di bilancio importante importantissima perché in bilancio non erano previsti fondi da destinare a queste assunzioni togliendo appunto queste risorse dai concorsi a tempo indeterminato di dipendenti pubblici abbiamo messo diciamo in campo questa segnalazione alla corte dei conti in virtù dei contratti degli staffisti abbiamo fatto precedentemente una diffida al sindaco per ritirare l'atto in autotutela in quanto noi lo riteriamo in alcune parti non legittimo una procedura che avrebbe impedito dunque lo svolgimento di un concorso pubblico comportando anche una variazione di bilancio quindi sono stati sottratti delle somme importanti parliamo di oltre un milione di euro nel corso dei cinque anni di soldi che dovevano andare erano già destinati allo sveglimento dei concorsi ci sono tante irregolarità che noi come opposizione tutta al completo abbiamo sottoposti agli enti preposti andiamo a Lecce per la conferenza stampa di presentazione del convegno nazionale degli avvocati ci siamo ci siamo il teatro è pieno devo dire con grande soddisfazione e orgoglio avvocati da tutta Italia sono confluiti a Lecce per questo congresso siamo molto contenti di poter aprire le porte della città a questo appuntamento così importante ha preso il via il 35esimo congresso nazionale forense che ha visto la partecipazione di professionisti provenienti da tutta Italia qual è il tema che congiunge la professione proprio a livello nazionale sono diversi i temi di questo congresso e credo tutti molto rilevanti a livello nazionale perché in questo momento l'avvocatura deve fare delle scelte deve confrontarsi con una realtà che è in continuo mutamento mi auguro che il punto centrale del dibattito sia proprio l'avvocatura Nei tre giorni di lavoro il congresso mirerà a discutere in merito ad un nuovo ordinamento per l'avvocatura protagonista della tutela dei diritti nel tempo dei cambiamenti globali l'attuazione delle riforme e gli effetti anche economici sull'esercizio della professione e il ruolo e le nuove competenze degli avvocati stessi Avvocato è un importante congresso quello che sta ospitando Lecce per un confronto Cambia il mondo cambiano le economie per cui anche il ruolo dell'avvocato deve cambiare è un appuntamento molto importante devo ricordare che la candidatura di Lecce venne accettata in occasione dell'ultimo congresso nazionale forense a Catania voluta da Roberto Altavilla allora presidente dell'ordine degli avvocati di Lecce Diciamo che è una riemersione dopo un periodo in cui stavamo ci vedevamo nei francobollini sui computer è bellissimo rivedere in presenza persone ed è bellissimo incontrarne di nuove Un congresso molto ambizioso da questo punto di vista perché c'è tantissima carne al fuoco la speranza è che si possano poi trattare analiticamente dettagliatamente questi temi Avvocato quanto è importante ritrovare anche la fiducia nella giustizia ebbè questo è il lavoro che dobbiamo fare con questo congresso ma soprattutto le istituzioni il nuovo governo torniamo a parlare di università per raccontarvi di una seduta di laurea in economia aziendale per il distaccamento di Brindisi una laurea speciale per sette studenti di economia aziendale del distaccamento di Brindisi dell'Università Aldomoro di Bari svolta verso l'Ordine dei commercialisti di Brindisi che ha ospitato la seduta autunnale l'iniziativa si inserisce in un ampio ed articolato progetto di radicamento territoriale da parte dell'Ordine dei dottori commercialisti che intende essere parte attiva del processo di crescita del tessuto socio-economico locale guardando ovviamente ai giovani e al futuro il corso di studi è stato diciamo difficile ma diciamo ci ha preparato molto sia per il mondo del lavoro sia anche nella vita in generale saremo prontissimi non appena appunto ci laureiamo ad uscire e affrontare il mondo del lavoro nel miglior modo possibile la mia materia innanzitutto si chiama Resources and Waste Management e ho scelto un tema molto attuale che è proprio la transizione ecologica proprio in questo momento in cui stiamo attraversando un periodo di difficoltà per l'Italia proprio per esempio nell'approvvigionamento di gas naturale e io parlerò proprio di questi temi dell'importanza di innovare e di investire nella transizione ecologica in tempi brevi questo è un progetto questo è un progetto che noi abbiamo fortemente voluto come ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Brindisi perché riteniamo che creare una porta di ingresso tra il mondo della formazione e il mondo poi del lavoro rappresenti il vero fattore di sviluppo di un territorio tratta di un'occasione importante che dà il segnale della cooperazione che noi svolgiamo con il territorio e quindi siamo grati all'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili qui di Brindisi per aver accolto questa nostra proposta che è un volano di iniziative future che naturalmente saranno a beneficio del territorio anche queste Fa tappa in Puglia la settima edizione di Nonno Ascoltami scopriamo insieme di cosa si tratta tornano le domeniche di prevenzione di Nonno Ascoltami nelle piazze italiane protagoniste quelle pugliesi di Bari Barletta Brindisi Monopoli Gravina e Taranto lo scopo dell'iniziativa presentata nella sede barese di Confindustria è quella di sostenere gli anziani di loro ruolo sempre più importante nella società il mantenimento deludito una persona su tre tra gli over 65 presenta problemi in tal senso ma anche di una buona qualità della vita è pertanto fondamentale l'iniziativa è sostenuta anche da OMS e Ministero della Salute l'evento è a livello nazionale ormai veramente un appuntamento molto atteso e Bari ha una sua tappa fissa da oltre dieci anni quindi veramente i cittadini attendono perché si è divulgato proprio questo verbo perché poi è un'attività è una giornata anche molto ludica ci sono anche intrattenimenti ci sono possibilità anche di fare screening gratuiti quindi di avvicinarsi per una buona sanità perché spesso non abbiamo quei servizi diciamo dalla nostra sanità pubblica pertanto noi privati cerchiamo di erogarli e di avvicinarci alla comunità del nostro territorio per fortuna invece i progressi della medicina hanno allungato la vita media e quindi senza dare nessun giudizio nessuna preoccupazione però ci sarà un cambiamento nella distribuzione dell'età della popolazione e gli anziani quindi diventeranno una parte preponderante della popolazione di conseguenza i servizi ad essi legati dovranno essere potenziati sarà un problema soprattutto di sostenibilità del sistema sanitario nazionale e questo era il nostro ultimo servizio grazie per essere stati in nostra compagnia vi lascio ai colleghi della redazione sportiva arrivederci rimani connesso scarica gratuitamente l'app di Antenna Sud trovi tutte le news i programmi in streaming e on demand e le pagine social grazie a tutti